l'ho scoperto prima del ciclo e pensate che ho fatto anche le beta prima del ciclo e già erano tipo altissime e niente ovviamente super fortunati siamo stati e siamo super felici insomma sapevo di restare subito incinta anche perché un po' prima avevo fatto una visita e mi hanno detto che ero super fertile quindi ho detto subito io restare incinta e infatti così è stato e niente l'ho scoperto prima del ciclo sto impazzendo non vedo l'ora di saperlo lo sa solo mia sorella lo sa solo la zia e lo scopriremo a breve vi risparmio quei discorsi ovviamente spero sia sano come vogliono fare tutte queste ipocrite quando tutti hanno un po' la preferenza o forse no ci sta anche a chi non cambia nulla mi piacerebbe la femminoccia solo che tutti intorno a me il nonno, il padre, tutti i ma... assolutamente sì c'è per me la gravidanza non è una malattia anzi è una cosa bellissima e se hai voglia fisicamente di fare sport e fai quello che devi fare senza esagerare assolutamente sì io lo sto facendo assolutamente sì io lo sto facendo